Grazie a tutti. Brugnier, quinto Pumar, sono loro i cinque che andremo a premiare. Allora, vedete la campana dell'ultimo giro, vedremo, oh, c'è Grippa in compagnia di Mwaghi, Arese ha ceduto qualcosa in terza posizione, quindi lascerà sicuramente lo scettro del vincitore qua, ai 3.000 di Biella che aveva vinto, poi Pumar, i due valzostani, Aspetta che ha perso qualche pollicione, è sesto.